Bella raga, video veloce veloce per andare a vedere il prossimo passo G, scorrono un po' tutti i cosmetici la prima pagina non so se ce la fanno vedere ma c'è insomma la nuova Renegade prima pagina nuova Renegade, seconda pagina lo stile secondario, ora forse ci va indietro ce la fa vedere comunque quarta pagina abbiamo sta roba qua e schermate, vabbè raga insomma diciamo che interessano un po' le mott e forse, cioè le skin e forse forse le motti picconi così così vediamo queste mott qua insomma non è niente di che la skin Assault Bomber non lo so raga boh, questo stile qua tra l'altro non è neanche quello originale così così qua abbiamo una falce come piccone, sono curioso di vederla le sci e le motti, intanto lagga un po' tutto ma non sono un granché, vediamo lo zainetto, sicuramente meglio quello originale questo Skull Trooper raga secondo me è anche abbastanza inutile come skin potevano evitarsela, visto che comunque non esce più soltanto da Halloween quello originale, tra le altre cose è molto molto migliore insomma, non lo so, a me non piace non piace molto, vediamo se le mott vale almeno questa pagina la vrap è carina ecco, non è niente di che però non è che ci scioppiamo una pasta su una vrap, sblocchiamo una vrap incredibile tra l'altro raga non c'è da nessuna parte il prezzo ma penso che sia un po' meno di mille però non vorrei dire una cavolate magari le mott, vabbè, le mott questa qua è già meglio dell'altra però non vorrei dire una cavolate, potrebbe costare mille VBAC anche se le ricompense sono 46 o 47 non sono molte, sono soltanto 3 skin non penso ci siano skin segrete in questo pass e questa qua invece era con la quale a Reneghi è un po' meno di più